Buongiorno e benvenuti amici spettatori al nostro settimanale appuntamento con informazione. Io sono Valentina. Ed io sono Jack, benvenuti. E cominciamo dagli interni. Continua la crescita esponenziale del peso di mio marito, con conseguente ricaduta sui costi del guardarobo. Intanto aumenta il malcontento della comunità vegana che vede in questa crescita il primo passo verso la macellazione. E proseguiamo con la cronaca. È cominciato ieri il cambio di stagione indetto da Valentina. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco intenti a ripristinare il normale svolgimento delle attività domestiche. Veniamo agli esteri. In arrivo dalla Cina l'ennesimo pacco per Jack. Il Ministero dell'Economia intima lo stop. Basta allo shopping online. Rimaniamo sull'economia, veniamo alla borsa. È l'ennesima che ti regalano l'usì. Dubito che accadrà di nuovo. E con questo era davvero tutto. Vi ricordiamo di non mancare l'appuntamento domenicale con le saghe domestiche del matricomio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci. Grazie per la visione. Grazie a tutti.